La storia di una passione, quella per la box, che nasce per caso e che scriverà il nome di Cassius Clay, alias Mohamed Ali, nelle pagine della storia. Un mito che sarà raccontato sul palco del teatro Santa Chiara di Brescia da Fabio Tavelli. Il giornalista bresciano, volto di Sky, rivela così un suo lato inedito, quello del narratore. Quando ero Cassius è il titolo del monologo di cui lo stesso Tavelli è autore e interprete. Una avventura bellissima, la narrazione per me è una scoperta, mi hanno sempre affascinato le persone capaci di raccontare una storia. Io stesso ho provato a raccontare delle storie alle mie bambine prima di metterle a letto e ho scoperto il piacere di poterlo fare, o almeno di tentare di farlo. E mi sono letteralmente invaghito di Cassius Clay e anche evidentemente di Mohamed Ali, ma della parte della vita di Ali nella quale si chiamava Cassius. L'idea e il racconto nascono con una rivelazione. Uno dei tanti acquisti di libri, compagni di viaggio, un giorno a Malpensa la mano cade su Il Re del Mondo. Il mondo di David Remnick e leggendolo in aereo realmente mi si è aperto un mondo. Io conoscevo la vita di Ali, ma la conoscevo come la possono conoscere in tanti, cioè avendo visto qualche filmato. Poi io sono del 69, lui di fatto a metà degli anni 70 ormai era già in declino, quindi non l'ho visto e poi comunque non c'era tutta la televisione di oggi. La convinzione poi che la narrazione orale sia lo strumento ideale per tramandare il mito, svelarne le sfumature, le emozioni, le imprese. Un uomo gravemente malato, un uomo che da tanti anni ormai non parla più. Forse l'ultima immagine vera e bella l'abbiamo vista ad Atlanta nel 96, quando fece l'ultimo tedoforo all'accensione con la torcia olimpica, però se ci pensate bene sono passati quasi 20 anni e lui era già in condizioni difficili. Provate a immaginare cos'è adesso, un uomo che era soprannominato la bocca perché continuava a parlare, continuava a parlare e la natura l'ha punito al punto di avergli tolto la parola. Lui che era velocissimo, lui che aveva un gioco di gambe pazzesco, lui che volava come una farfalla e pungeva come un'ape, adesso è ridotto lì alla semi-infermità. Una storia straordinaria, dall'infanzia ai duelli con Liston, che arriva a Brescia dopo una decina di rappresentazioni e tanti altri spettacoli in programma nei prossimi mesi tra il Veneto, Expo e San Marino. Poi lo facciamo il 6 di novembre a Roncadelle, quindi da queste parti, insomma, se non potete il 2 è il 6 di novembre a Roncadelle, 20 e 30 cominciamo. Io vi prometto di tentare di stare nell'ora e un quarto, so che non ci riuscirò, però vi assicuro che non ve ne accorgerete, guarderete l'orario e direte sono già passate un'ora a me, incredibile, voglio stare ancora qui, spero. Qualche indiscrezione tra quelle che si possono dare sullo spettacolo, spettacolo abbiamo detto è un monologo in scena, quindi ci sarai semplicemente tu e Cassius. Sì, ci sono io con il racconto della sua vita, poi abbiamo anche qualche inserimento musicale con un bravissimo chitarrista cantante che mi aiuta, però fondamentalmente ci sono solo io. Parto raccontando un episodio della vita di Ali, racconto tutto Cassius e chiudo con un episodio inedito, poco conosciuto, che riguarda lateralmente Ali e che secondo me vi sorprenderà.